5 dicembre del 2008, avanti siamo incrollati, 40 tipi di giorni isolati e si posizionavano alle elezioni, perché cosa? 250 per 500 mila euro, ecco il notto! E ora fanno più fucilinco, non esiste! Qua c'è un dato che io non so se fa paura, i morti sono arrivati qua, le case non avevano urlanti, per i maschi, uno non lo trovava a si portare a me, o allunque cosa! E allora, con il corretore si commette in situazione, intanto due sono arrivati, il territorio è questo! Viene venire a vivere qua su quattro c'è stato? E allora, io sono andato qua, vorrei continuare a vivere qua, anche se sono messa in mezzo, io sono convinto che di fare un'attività qua non so più a cantare, a prendere la rete! io tra anni fa ho riconosciato, ero, era un dito e sicuro! Oggi non ho la forza fisiologica, fisica, economica! Da notte io penso, effettivamente, messi che ne amo, ma tu ne la non so più a cantare la sera ora, io sono un vero, io sono un vero e io devo andare per il suo primo, non lo troppo a cantare la vita, io sono un vero che traspettanto che il E' inutile parlare, poveri, non parlare di qualsiasi furto stretto di messina. Ci sono priorità. E' inutile parlare di qualsiasi furto stretto di messina. A presto! Sì, 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 sì. il momento in cui non lo so ne sono mai bella e non ho visto male se non sono mai bella e non ho visto male se non ho visto male se non ho visto male se non lo so non ho visto come giù sono troppo costruito perché lui volerete subito a mente e non sono mai Grazie per la visione!